Non si ferma la catena di solidarietà piacentina in favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dalla eccezionale nevicata in centro Italia. Dopo l'intervento delle motoslitte nella fine settimana scorso, quando 12 uomini hanno raccolto la richiesta di aiuto per raggiungere con i loro mezzi cingolati le case ancora isolate, in questi giorni un'altra attività della sezione piacentina della CER, il coordinamento escursionistico su ruote, ha preso forma. Ieri due camion, carichi di mangimi e cibo per cani e gatti, sono partiti per consegnare il carico direttamente ai cittadini. Oggi altri due mezzi pesanti sono partiti da Reggio Emilia per recapitare altri 11 quintali di mangime, due stufe a pellet e bancali di combustibile destinati alle persone dislocate in alloggi senza riscaldamento. Sui luoghi del terremoto, fa sapere Barbara Bergonzi, coordinatrice del CER, sono ancora presenti quattro piacentini che con i loro quad fanno la spola per consegnare materiali alle popolazioni più lontane. Grazie a tutti.